Mister, un commento sulla partita? È stata una vittoria più difficile del previsto oggi. Il Pescara comunque ha fatto una buona partita, noi eravamo stanchi per la quarta partita in dieci giorni. Siamo contenti, è chiaro che questa vittoria per noi si infiammò. Le chiedo solo una cosa in chiave abruzzese, è un po' bugiardo il risultato per le occasioni che ha avuto il Pescara? L'ho detto, credo che il Pescara ha fatto una buona partita, ci ha messo in difficoltà. Noi siamo una delle migliori difese e oggi abbiamo tenuto anche per questo, perché comunque i numeri dicono questo e sempre ha fatto anche un paio di belle parate. È chiaro che ci sono anche questi aspetti qua, però penso che per occasioni, per modo di gioco, il Chievo magari forse col minimo scarto mi avrebbe meritato comunque la vittoria.